Fano è la vacanza giusta a misura di grandi e piccini. Dopo la presentazione del piano strategico per il turismo insieme all'esperto Joseph Ejark, oggi l'assessore Etti e Luca Relli ha presentato la squadra che già da 20 giorni è scesa in campo per realizzare e divulgare foto e video promozionali della città. Alessandro Eusebi, Valentina Pucci ed Erri Anniballi sono i giovani che hanno anche realizzato una brochure che verrà distribuita nel nostro territorio e nelle fiere di tutta Italia. Un nuovo social media team composto da tre ragazzi che lavoreranno sui canali social, quindi Facebook, Instagram e YouTube, ma realizzeranno anche delle newsletter perché è importante un'interazione tra tutto il mondo degli eventi, il mondo della cultura con il mondo del ricettivo, perché dobbiamo fare massa critica, dobbiamo trasferire tutte le informazioni possibili dalla nostra città, a tutto ciò che realizza nella nostra città, al mercato e per farlo arrivare al mercato turistico bisogna che anche tutto il mondo del ricettivo trasmetta ai propri clienti ciò che viene realizzato nella città di Fano. E sono quattro gli slogan che raccontano la città, vivi, la scopri, la gusta, la sentila, dal mare alla collina, dall'arte alla cultura, dagli eventi all'enogastronomia. Si tratta di un mix fra tradizione, emozioni ed esperienze che rendono Fano una meta perfetta per i turisti di ogni età. Stiamo mettendo a terra in modo importante il lavoro che è stato realizzato, vogliamo trasferire il più possibile nel mercato le nostre sensazioni, ovviamente questo è il primo passo che faremo e i prossimi giorni ne racconteremo anche tanti altri. Ho pensato nel mercato di corse, studiando la città, vivi, la scopri, la scopri, la scopri, la scopri, la scopri, la scopri. Grazie per la visione!